Quando piove a causa di problemi di stabilità degli invasi, l'acqua va a finire a mare. Una situazione a Gela che va avanti ormai da tanti anni. La revisione del piano di protezione civile dei tre invasi è un atto propedeutico alla realizzazione dei piani di emergenza delle dighe che devono essere manutenzionate. Il prefetto ha anche evidenziato come il mantenimento di un efficiente stato di manutenzione e conservazione degli invasi è fondamentale per un'ottimale gestione delle risorse idriche sia funzionale al benessere e allo sviluppo delle attività agricole che insistono nel territorio. I tre invasi sono pieni di fango e per scongiurare situazioni di pericolo vengono spesso svuotate. Da tempo denunciamo che le dighe vanno manutenzionate, dice il sindaco di Gela Lucio Greco, ma ancora non abbiamo risposte in merito, così rimangono criticità nell'irrigazione dei campi. I documenti di protezione civile delle dighe di Cimia, Comunelli e di Sueri che sorgono in provincia di Caltanissetta devono essere aggiornati perché ormai datati. Il dato emerge appunto dall'incontro che ha convocato il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia alla presenza del dirigente del Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti della regione siciliana Gerlando Ginex, i sindaci di Gela, Butera, Niscemi e Mazzarino ed irresponsabili dei tre invasi oltre ad un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Da anni a Gela i tre invasi non riescono a contenere un quantitativo d'acqua utile per poter soddisfare le richieste che giungono dagli imprenditori agricoli della piana gelese.